è la prima ripresa a seguire si prepari con balestra Cristina, Capozzi, Luca Capozzi, Capozzi, Capozzi seconda ripresa il 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 Giambe e braccia, bravo. Lo fai tutto, lo fai tutto giusto. Vai, vai, vai. Ecco qua, bravo. E bravo, bravo. Ottimissimo, ragazzi. Senta su quella gamba. Lavoraci, lavoraci. Forte, bravo. Vai, vai. Vai Omar, ottimo. Chiudi con la gamba sotto. Con la gamba. Chiudi con la gamba. Gamba. Vai. Vai, vai. Bravo. La fine dell'incontro. Welco? . Escapa. Hai ma��cata. È una mamma sottomomentemente. È una mamma sotto tremenda. È un silenzino. Di solito. Direction feria déficit. Direction la gamba. Direction di fire. Direction ble espaço covers! Direction di Tátania.